Oltre ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video Questo è un video abbastanza brutto, se devo essere sincero Come volete vedere, oltre ai vari rumori di sottofondo Il video va molto a scatti E addirittura, anche mio, quando gioco a Minecraft e ho la registrazione di PS sotto Minecraft va molto a scatti Ho cercato di mettere qualsiasi tutorial che cerchi di risettare gli FPS Ho messo FPS limitati, 120, 180 Ho messo FPS 60 come BSS, FPS 60 Priorità alta, quelle cose lì Ma purtroppo non ho trovato nessun metodo per risolvere questo problema Detto questo, finché non riuscirò a trovare una vera soluzione a questo fatto Non portò più Minecraft E spero vivamente che non accada anche con gli altri giochi Se no il mio canale si sposterà su un'altra via che non sia quella dei videogiochi Detto questo, scusate se non ho portato video nella scorsa settimana Ma è stato proprio anche per questo fatto Ho cercato di registrare due video di Minecraft Uno sul magazzino e l'altro sulla 1.17 Quello sul magazzino è andato un po' meglio Solamente che ha largato da meno tanto sulle parti di speedrun E invece quello della 1.17 completamente a scatti Non si aveva completamente niente Quindi, con questo tramonto Io spero che capiate il mio disagio E che mi consigliate anche qualcosa da fare Per risolvere questo problema Io cercherò di metterlo in prova in un altro video Dal vostro programma è tutto E detto questo, ci vediamo al prossimo video Che spero sia migliore rispetto a questi di Minecraft Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Che spero sia migliore rispetto a questo video Grazie a tutti.